Un sito in memoria di Avici. Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ, un sito in memoria del grande Avici sta per essere costruito a Stoccolma, andiamo a vedere. Ecco qua, questo è l'articolo ufficiale di Antenne Münster, questo sito svedese dove parla di questo memoriale che sta per essere costruito a Stoccolma, quindi in Svezia, che è la città nativa di Avici e il DJ produttore musicale Avici. Inutile stare a ricordare molti successi in primis levels Wake Me Up, morto all'età di 28 anni prematuramente. Questo lo prevede il comitato distrettuale della capitale Ostermalm, come annunciato dal partito liberale svedese che presiede il comitato. Secondo questo nel centro di Ostermalm si potrà ricordare Avici alias Tim Bergling da un lato, ma anche onorare tutte le persone con problemi psicologici che sono morte troppo presto dall'altro, quindi è una cosa che non riguarderà solamente Avici ma anche tutte le altre persone meno famose di Avici che hanno avuto il suo stesso problema. La decisione dovrebbe essere approvata dalla commissione la prossima settimana e il comitato distrettuale più la famiglia di Avici stanno spingendo proprio per la decisione di creare questo sito commemorativo in onore del figlio, soprattutto il padre del musicista Klaas Bergling, è stato citato in un comunicato stampa dicendo questo posto offrirà l'opportunità di ricordare Tim e la sua musica, che ha significato e significa così tanto per molte persone in tutto il mondo. Quando e dove esattamente sarà eretto questo memoriale, non è ancora noto dalle informazioni ma dovremo saperlo presto. Tim Bergling, cresciuto a Ostermalm, è stato trovato morto il 20 aprile 2018 a Muscat, la capitale dell'Oman. La pulizia ha escluso qualsiasi colpa straniera, la star mondiale che soffriva di problemi di salute mentale rappresentava successi mondiali come Levels Addicted to You e i Brother Wake Me Up che hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e hanno decretato un successo planetario per il giovane DJ svedese. Avicci verrà onorato così nella sua città natale di Stoccolma con un nuovo sito commemorativo. La notizia arriva così dopo tre anni dalla tragica scomparsa dell'amato produttore amato da molti colleghi ma amato anche dal pubblico normale soprattutto perché ne aveva decretato il successo incredibile in tutto il mondo. Tra l'altro è uscita una versione alternativa di Avicci True Stories con filmati mai visti ed è emersa su un canale YouTube, vedete Avicci True Stories di Avicci Archives. Il documentario del 2017 ha offerto ai fan uno sguardo intimo sulla straordinaria ascesa del fenomeno svedese, vedete Avicci True Stories, se non l'avete visto, dove si parla un po' della vita sua, del live, di tutta l'ascesa al successo ed anche dei problemi. Vedete qua David Goetta che ne parla, i colleghi e di problemi che ha avuto la sua lotta con la salute mentale. Tutti i numeri del grande DJ e produttore svedese che sarà ancora ricordato ulteriormente nella prossima biografia dello scrittore svedese Manz Mosesson, Tim Berglin The Official Biography che uscirà il 2 novembre 2021. Quindi non perdetevi questo evento. Ecco qua Avicci True Stories e da qui c'è il trailer che possiamo vedere, che abbiamo visto. Se andiamo a vedere sulla sinopsi c'è scritto tutto la verità su Avicci, un nuovo avvincente documentario di questo Levance C. K. Richvili, la vera e propria verità dietro il successo del produttore, uno degli artisti di musica dal vivo con il maggiore incasso al mondo, la cui decisione improvvisa di smettere di fare spettacoli è arrivata come una botta per i fan e l'industria. Il film rivela le scelte che ha dovuto affrontare i suoi pensieri in quel momento, ripercorrere la vita dell'artista, DJ dai suoi inizi, fino alla gioia del suo successo, i successi radiofonici globali, ai vertici delle classifiche, le successive lotte con la sua salute fisica e mentale. In questo documentario Berglin è stato seguito per oltre 4 anni e sono stati catturati, filmati al volo, cioè la vera storia, proprio per i fan accaniti. Sempre questo Tsikurishvili dice che volevo fare un film brutalmente onesto su Tim come persone non solo su Avicci. Tutti conoscono Avicci ma pochissime persone conoscono Tim. Penso che questo documentario mostri davvero la lotta e la forza del carattere di Tim. Essere un artista superstar mondiale non lo è facile, come sembra su Instagram. E a proposito di Avicci, ricordiamo che la sua storia inizia quando ha vinto un concorso di produzione indetto da Pitong nel 2008, nel 2011 si è trasformato in un titano apparentemente dall'oggi al domani con il classico Levels di Progressive House EDM. L'anno successivo lo vide diventare il primo DJ EDM a realizzare un tour mondiale. Avicci ha infranto le aspettative su ciò che potrebbe essere la musica dance quando ha svelato lo Swing Country Dance di Wake Me Up all'Ultra Music Festival di Miami nel 2013. L'anno del 2015 avrebbe dovuto essere un picco per il produttore ma dietro le quinte era troppo lo stress, l'ansia, la malattia che lo stavano divorando. Aveva suonato in più di 800 show di quelli importanti e dopo una pausa di 8 mesi dal tour nel marzo del 2016 ha suonato Avicci tornando all'Ultra di Miami e 10 giorni dopo ha annunciato il suo 2016 a Ibiza. Dopodiché Tim Berglin alias Avicci ha suonato il suo ultimo spettacolo 28 agosto 2016. Credo che sia importante conoscere anche questa storia, questo lato un po' oscuro degli artisti che hanno fama, successo, donne, tutto quello che vuoi ma poi stringi stringi quel che conta è la testa. Se quella non funziona o se c'è qualcosa che si insinua all'interno è un grosso problema. Bene, noi preferiamo continuare a ricordarlo con la sua bellissima musica, con i suoi brani molto dance, molto commerciali ma anche molto particolari ed è per quello che ci piace. Probabilmente sono diventati commerciali non perché erano scontati ma proprio perché piacciono a tutti. Ricordandovi dei corsi per DJ, corsi DJ e produzione musicale dove potete fare tutte le lezioni private con il sottoscritto, compilando il form nella sezione contact oppure contattandomi alla pagina facebook. Dove sta questa pagina facebook? All'interno di ogni video di SOS4DJ e nelle informazioni lì la trovate. Contattatemi in privato solo per chi vuol fare lezioni, mi raccomando consulenze private su hardware, software o problemi legati a suonare in regola per i DJ, agibilità, impulse, S.A. e CD masterizzati quant'altro. Per tutti gli altri problemi, per chi non vuol fare consulenze o lezioni o corsi online potete metterle nei commenti di SOS4DJ. Oltre alla pagina facebook troverete la pagina instagram all'interno delle informazioni e la pagina telegram con tutti i nostri contenuti extra con gli spoiler, con le novità, i video in anteprima se vuoi puoi farne parte e gratis. SOS4DJ il canale, mi raccomando l'iscrizione è importantissima, clicca qua perché così potrai crescere, avere sempre più a disposizione contenuti, materiale, nuovo, tutorial per crescere e facci crescere anche a noi iscrivendoti al canale, per noi sarà gratificante. Attiva la campanella, metti un bel like e condividi questo video, se pensi che a qualche tuo amico o qualche collega possa essere utile, buttaglielo lì sui social. Inoltre puoi sostenere SOS4DJ cliccando il tasto paypal, non fa male, non fa male offrirci un caffè se pensi che tutto questo lavoro che stiamo mettendo per te a gratis ti faccia crescere. Un grande artista, a vici che ci manca tantissimo, manca la sua musica, manca i suoi set e manca veramente la sua persona, il suo personaggio, il suo essere così creativo e fantastico nel mondo dance, mancava, manca ancora una figura così particolare a differenza di molti altri produttori e DJ mondiali, in effetti ora che non c'è più la sentiamo parecchio. Bene, fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti, sperando che si faccia questo memoriale in suo onore. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Piripiri pi!